bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo tornati con i gamberetti episodio 37 se non sbaglio mi sembra di no signori allora prima di partire col video con i nostri gamberetti io vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo di passare sul mio secondo canale in cui portiamo altre serie e altre giochi altri giochi mi trovate come maullo941bis vi ringrazio per i like per i commenti e per il supporto che da questa serie e al canale vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate come maullo941 sia su instagram che su facebook dove tramite appunti social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live sia su questa piattaforma che su quella viola di solito qua su youtube mi trovate ogni giorno alle 21 di sera e ultima cosa dato uno sguardo ai link in descrizione al video per avere le maggiori informazioni e tutto ciò che potete fare tramite il canale detto questo signori non perdiamo altro tempo e partiamo con il video di oggi ok signori allora noi se veniamo da una bella vittoria se non ricordo male adesso abbiamo lo swinton che diciottesimo in classifica vediamo un attimino la formazione allora 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 aladino la gioco da titolare l'altra volta si mettiamo 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 scott si mettiamo il ragioniere così si sveglia un attimino sullivan wielding e mune fuori wielding diamo spazio a canon mune lo teniamo titolare signori si vediamo di farlo crescere un pochetto giardino diamo un turno di riposo e facciamo giocare cantè però giardino ce lo portiamo in panchina perfetto in difesa gibson facciamo il cambio gioca stevens che non ha un'ottima forma lavandino clark la vello car che va se la la qui torna il nostro melone il nostro melone preferito al posto di la vella cambiamo tutta la difesa signori giochiamo con davis con davis e grieves e grieves va bene giochiamo con loro in porta facciamo giocare spike signori anche se lo re mi da molta più fiducia ma facciamo giocare spike se no mi si mi si incavola mi si incavola a lungo andare a lungo andare mi si incavola detto questo signori penso che siamo organizzati siamo pronti vediamo un attimino i nostri osservatori stanno osservando giusto o ce n'è qualcuno che non sta facendo niente no stanno osservando tutti perfetto ok mi era venuto un attimino sono in del dubbio su queste situazioni va bene signori andiamo in campo ok signori ci siamo ci servono i tre punti qui da questa parte abbiamo lo zio salli zio 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 parti subito alla grande parte a bomba zio melone 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 parti 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 bello grandissime il movimento 12 veloce qualcuno che parte vai zio no si stava centrando lo zio mannaggia attenzione a loro signori attenzione alle ore che attaccano attenzione a loro che attaccano sulla fascia di sinistra non è fuori gioco mannaggia twine me lo ricordo questo la bustina di te me la ricordo sulla cosa sulla fascia signori la bustina di te me la ricordo abbiamo già giocato con questi era fallo era leggermente fallo però nessuno ha visto niente va bene così nessuno ha visto niente va bene così ripartiamo ripartiamo dai con calma con calma piccolo melone canon canon per il ragioniere 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 cerca lo zio attenzione il ragioniere l'ha dato allo zio ma quella fa perché la sta battendo perché l'abbate ragioniere questa rimessa laterale dove sta in attacco allora melone 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 crediamoci 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 melone per ragioniere ragioniere no mamma mia ragioniere mio svegliati porca miseria attenzione a loro che stanno continuando attaccare hanno cambiato corsia no 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 vabbè dai spike no vabbè non ci posso credere non ci posso credere signori ma porca di quella mi dite come si fa a prendere un gol così guardi abbiamo fatto l'assist noi e poi spike mamma mia mamma mia tutto da rifare tutto da rifare va bene va bene va bene va bene non abbiamo paura non abbiamo paura signori ce la possiamo fare ce la possiamo fare zio ti dà una svegliata però su quella fascia zio salli attenzione ancora loro per vie centrali grandissimo gruves che che salva tutto questi con l'intervento in scivolata mi stanno anticipando un sacco di palloni porca miseria allora attenzione vai zio vai zio salli vai zio salli vai zio salli vai zio salli scatenati su quella fascia vai zio salli vai zio salli zio salli zio salli zio salli zio salli dai così la pareggiamo subito la pareggiamo subito chi l'ha pareggiata chi l'ha pregiato il ragioniere il ragioniere dai così l'asse zio salli zio ragioniere funziona ancora la pareggiamo subito signori buona così buona così dai 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 buono pareggiarlo prima della fine del primo tempo ora cerchiamo di tenere il più possibile cerchiamo di tenere il più possibile signori perché tenere quando puoi segnare il gol del 2 a 1 perché tenere quando puoi segnare il gol del tuo 1 poi zio salli vai zio salli no mannaggia stocco non si è nascosto bella pazienza si è svegliato zio salli signori se si sveglia zio salli è finita se si sveglia la zio salli è finita attenzione il piccolo luna il piccolo luna il piccolo luna il piccolo luna bravissimo aspettato che candera indassare fuori gioco ma non gli dà il pallone non gli dà il pallone attenzione attenzione il morecambe la tiene lì il morecambe la tiene lì bellissimo movimento al centro cross no calcio d'angolo peccato stiamo giù dai 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 ci siamo svegliati ora ci siamo svegliati ora cantella batte lui cantè per il piccolo luna per il piccolo luna ancora lui questa volta indrenale tira subito il piccolo luna il piccolo luna signori forse dai il 5 da cantè dai così il piccolo luna l'ha ribalta lui damose ragazzi damose ragazzi bellissima la strafilata del piccolo luna guarda che bestia all'incrocio bella così bravo il piccolo luna 2 a 1 partita ribaltata attenzione a loro non ci stanno signori ma noi abbiamo una difesa che si è rimessa in sesto va bene così dai con calma con calma con calma buone recupero attenzione piccolo melone sono tutti piccoli signori sono tutti piccoli il nostro meloncino il nostro meloncino si ferma sa che non può andare troppo oltre aspetta lo zio gliela dà la sala sulla fascia lo zio salli lo zio salli la vuole chiudere lo zio salli la vuole chiudere lo zio salli mamma mia che soffecata terribile dello zio salli ci ho voluto provare signori ma è stata una cosa terribile va bene va bene così va bene così due minuti recupero siamo minuti e 26 dai arbitro fischia manda tutti a prendere un bel tè caldo come direbbe pardo no 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 zio è finita albitro siamo a tre minuti recupero su due dati albitro albitro che stiamo fa albitro albitro che stiamo fa albitro è finita albitro è finita albitro è finita cinque minuti di recupero ma batte la piglia mamma mia cinque minuti di recupero ci sta una segnando a cinque minuti di recupero attenzione attenzione mamma che imbucata mamma che imbucata il tuo gol del pareggio ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere ma che gol ha trovato ma che gol ha trovato signori peccato peccato va bene dai facciamo dei cambi facciamo dei cambi signori per quanto la formazione sta girando bene no no non facciamo assolutamente nulla diamo continuiamo a dare fiducia per cantè su quella fascia anche se mettere molto volentieri giardino però teniamo teniamo cantè diamogli fiducia diamogli fiducia ha avuto quel buon quella buona occasione che ha sbagliato il colpo di pochissimo diamogli fiducia diamogli fiducia diamogli fiducia diamo fiducia a cantè mio io ti do tutta la fiducia del mondo ma se te mi sbagli questi passaggi non andiamo da nessuna parte attenzione attenzione a loro ma normale che spike stavolta la vede di solito non ne vede una spike mamma mia quando i tiri diventano importanti quando tiri diventano importanti spike non ne vede nemmeno una guarda lo guarda lo guarda bravissimo cantè buone passaggi per stocco non vai 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 stocco non calmati 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 ragioniamoci ragioniamoci c'è qualcuno al centro che si fa vedere fuori gioco e fuori gioco ma porca 71 signori facciamo dei cambi facciano dei cambi allora fuori cantè dentro giardino fuori moon dentro wilding e fuori stocco dentro non attaccate signori diamo fiducia mi ora diamo fiducia non mi ora signori abbiamo fatto uscire il ragioniere per il nonno abbiamo fatto uscire il ragioniere per il nonno vediamo se la sua capigliatura bianca riesce a dare una svegliata alla squadra dai cosi calma 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 canon wilding il suo primo pallone trova subito giardino che parte su quella fascia vai giardino vai giardino vai giardino che sei veloce vai giardino che sei giovane devi farti ci devi mettere in mostra giardino dai giardino che canta di testa per soffiare il posto dai giardino dai giardino dai giardino dai giardino ma porca miseria forse se la dava in profondità era era meglio dai lo stacco dai lo stacco di testa signori porca miseria che stanno a fa questi se palle palleggiano con la di testa dai riesce no 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 chiudilo grievous grievous è tutto tuo grievous tu sei un difensore centrale grievous che ci fai sulla fascia a lasciarmi aperto bravissimo grievous giardino per wilding è partito wilding è partito wilding buono così è partito wilding miure ancora fermo al centrocampo miure ancora in panchina signori miurano stare non sta giocando proprio attenzione 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 miura il nonno miura signori il nonno miura col 3 al 2 del nonno miura incredibile era rimasto ancora in panchina non era ancora neanche entrato in campo e compagni lo vanno abbracciare festeggia così il rinnovo grandissimo grandissimo il nonno di sinistro trova un gran gol bravo nonno grande così 84 siamo signori teniamola cambi indovinati signori assist di wilding è il gol di miura assist indovinati mancano cinque minuti signori evitiamo di prendere gol voglio 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 vincere col gol del nonno miura che grandissimo grievous mamma che grievous che giocatore che grievous stoccon con calma stoccon 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 guarda giardino bravo giardino che riesce a tenerla bravo giardino cresce a tenerla se ne va battendo la bandiera giardino prendi tempo prendi tutto il tempo che vuoi prendi tutto il tempo che vuoi lui però entra in aria entri in aria entri in aria attenzione attenzione stoccon 4 a 2 signori 4 a 2 dai così si mette a ballà stoccon trova il gol dal 4 a 2 abbiamo sofferto ma abbiamo vinto signori giardino assist di giardino cambi azzeccati cambi azzeccati abbiamo azzeccato tutti i cambi signori abbiamo azzeccato tutti i cambi quando uno dice far bene i cambi li abbiamo fatti bene in questa partita 4 a 2 4 a 2 buono così sappiamo soffrire ma sappiamo anche vincere signori non perdiamo la testa buona è finita dai così dai così tre punti importantissimi tre punti importantissimi signori dai 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 torniamo al menù torniamo al menù ok signori bella vittoria bella vittoria prossima partita contro il west m in coppa tanta roba signori tanta roba la prossima partita la prossima partita offerta ritirata va bene ma chi se ne frega dell'offerta ritirata facciamo gli allenamenti dai così signori allenatevi bravissimi senza problemi senza indugi andiamo alla prossima partita che sono venduto oh perfetto stavversando mer gibson vuole giocare rimaniamo così signori così mi ricordo di mettere in campo ma il gibson e non ci saranno altre modifiche da fare detto questo signori io vi ringrazio per questo video ringrazio per l'acca per i commenti per gli suggerimenti per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao